Ciao a tutti, allora piccolo percorso in Excel, poi lo continuiamo un po' più avanti vediamo come è possibile gestire le date in Excel, nei fogli di calcolo allora vedremo essenzialmente tre piccole funzioni oggi, la funzione adesso e la funzione data.dif che è una funzione un po' nascosta in Excel ma incominciamo a vedere, allora prima di tutto la data la data, tipo come questa, 11-12-2019, dovete sapere che Excel non ha il concetto di data Excel trasforma la data in un numero, in un numero seriale che va dal 1 gennaio del 1900 quindi per Excel la data è un numero e questo ci dà dei grossi vantaggi per quanto riguarda andare un po' a sottrarre due date a sommare delle date cioè ad aggiungere ad una data, per esempio, un numero di giorni allora, prima di tutto se io inserisco una data qua, come vedete qua, nel pannello home, viene fuori data mentre se io inserisco un numero, ovviamente, qua viene fuori generale vi ricordo che, quindi, la data in questo formato cioè nel formato giorno, dd, mm, y, y cioè nel giorno, mese e anno come la inseriamo? la inseriamo, ovviamente, 12 poi mi faccio la mia slash 12, per esempio, 2018 nel momento in cui batte invio automaticamente lui riconosce che è una data se io faccio destro, formato celle e vado qua, nella scheda numero vedete che qua, in categoria quindi scheda numero, categoria lui me la vede come data e io posso visualizzare la data in modo diverso quindi potrei dire mi metti anche il nome del giorno così per esteso quindi basta fare ok e lui mi dice mercoledì 12 dicembre 2018 perché molte volte è importante vedere anche il giorno quindi, per quanto riguarda l'inserimento della data è importante andare in formato celle a capire come Excel ci deve visualizzare la data la funzione oggi è una funzione molto importante perché se io scrivo uguale, proprio oggi aperto tonda, chiuso tonda perché non ha nessun argomento mi restituisce la data di oggi mi dice che è l'11 maggio del 2020 qual è la differenza? potrei anche scriverlo io, no? 11.05.2020 la differenza è che questa è una data statica cioè se io apro Excel domani è sempre 11.12.2019 questa invece è una data dinamica cioè nel senso che se io domani apro Excel apro questo foglio di calcolo mi dirà che è il 12 maggio 2020 quindi è una data che si aggiorna continuamente quindi dipende un attimino da quello che dobbiamo fare se dobbiamo utilizzare una data statica oppure se dobbiamo utilizzare una data dinamica che si aggiorna tutte le volte che io apro Excel abbiamo la funzione adesso invece la funzione adesso è una funzione proprio si scrive adesso aperta tonda, chiusa tonda è una funzione che come vedete non ha argomenti e ci restituisce pure l'ora ok? quindi sono 11.05.2020 sono le 18.36 quindi sapete tutto sto girando il filmato proprio l'11 maggio alle 18.36 quindi se io le volessi utilizzare mi metto qua scrivo uguale scrivo oggi apro d'onda chiudo d'onda batto e invio adesso scrivo uguale adesso apro d'onda chiudo d'onda batto e invio vi ricordo che quando incominciate a scrivere vedete che si apre Excel cerca in qualche modo di aiutarci vedete dice guarda vuoi la funzione adesso? clicco e posso dovrei chiudere la parentesi tonda dovrei sapere che è senza argomenti ma battendo invio me la chiude Excel 1 e 2 un po' più completa è invece è la funzione data.dif data.dif a che cosa serve? serve a calcolare la differenza tra due date che è una cosa che si fa si fa molto molto spesso ripeto poi la prossima volta vediamo qualcos'altro allora come funziona? funziona in questo modo qua io posso dire data.dif proprio si scrive così allora sto facendo la differenza tra tra questa data come vedete è 15 punto e virgola e questa data f10 d e poi gli ho messo d cioè gli vado a dire mi dai il numero di giorni tra le due date quindi se io batto invio lui mi dice 365 ci sono 366 giorni tra l'11 maggio dell'anno scorso e l'11 maggio di quest'anno la d la posso mettere anche in minuscolo ovviamente dovrebbe essere in minuscolo veramente e lui mi dice 366 allora lo vedete qua quindi di i giorni se io volessi i mesi qua devo mettere m sono 12 i mesi ok se io volessi i mesi ed escludere gli anni ovviamente dovrei scrivere ym e 0 perché ovviamente le due date dovrebbero essere diverse oppure yd i giorni escludendo gli anni oppure md i giorni escludendo gli anni e i mesi quindi qua potete calcolare tutto quello che volete per quanto riguarda la differenza tra due date e quindi se volessi calcolare l'età con excel allora vi dico anche questo visto che sapete quando sto registrando a chi ora sta registrando a questo punto vi dico pure la mia età io sono nato il primo gennaio del 1967 sono vecchio? sì lo sono allora come lo posso calcolare con excel? proprio con data.dif quindi allora guardiamoci un attimino questa funzione che è un po' articolata io scrivo data.dif tra 1.0.2.67 ok e la data di oggi quindi vammi a fare la differenza tra il 1967 e la data di oggi e me lo esprimi in anni poi questo è un operatore di testo cioè mi va ad unire ad unire delle stringhe quindi gli vado a dire mi unisci a questo risultato mi unisci la parola anni come vedete sempre tra virgolette perché è un testo mi unisci a la differenza che c'è tra la mia data di nascita e oggi però i mesi escludendo gli anni lo vedete qua mesi escludendo gli anni e ancora mi unisci alla parola mesi e ai md ai giorni escludendo gli anni e i mesi me lo unisci a giorni cioè in poca parola lui vi dice 53 anni 3 mesi e 10 giorni in questo momento io ho 53 anni 3 mesi e 10 giorni ripeto data.dif tutto questo vi dà 53 unito alla parola anni vi dà 53 anni 53 anni vediamo i 3 mesi tutto questo vi dà 3 mesi 3 vi dà 3 unito la parola mesi e 3 mesi e i 10 giorni ve lo dà data.dif tutto questo fine qua vi dà 10 giorni unito alla parola giorni e quindi vi ho insegnato anche il calcolo dell'età con excel questa è la formula ovviamente questa è la formula questa è la formula e perché avevamo studiato prima data.dif quindi è un'applicazione di questa formula al limite ma penso che si veda abbastanza penso che si veda abbastanza ve la lascio così troppo zoom ma insomma è stata abbastanza tanto la potete bloccare come volete ok vabbè mi fermo qua perché altrimenti vi faccio passicci con la registrazione e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao